Ultimo weekend calcistico di gennaio pronto per il Via, con parecchie gare intriganti per le compagini siciliane, a cominciare dalla CR Messina, che spera nella terza vittoria consecutiva in casa della Turris, che in classifica si trova sotto di cinque lunghezze. Derby interno invece per il Trapani in serie D contro l'Akragas, reduce dalla sconfitta in un altro derby. Match stuzzicante invece per il Siracusa in casa contro LFA Reggio Calabria. Trasferta insidiosa per la nuova Igea Virtus al San Ciro di Portici, derby interno per il Città di Sant'Agata contro il Canicattì. Due impegni interni e tre esterni per le cinque messinesi in eccellenza a girone B. La Messana nell'anticipo odierno aspetta l'Atletico Catania in un vero e proprio match spartiacque. La Nebrus invece ospita un'altra catanese al Vasi, il Mister Bianco, ancora una catanese sulla strada del Rocca Acquedolcese che sfiderà il Mazzarrone. Impegno siracusano per il Milazzo all'Angelino Nobile e Nisseno invece per la Ionica al Presti di Gela. Gare interne per le prime quattro della graduatoria in promozione. Oggi derby agli Aca tra la vicecapolista Gioiosa e la Sant'Angiolese, testacoda al Fresina tra la Rosmarino e la Nuova Azzurra. Domenica il Città di Mistretta attende la Promende, l'Aquila Bafia all'Osso Duro e l'Ascari Cefalù. Chiudono il programma la sfida frizzante tra Città di Galati e Nuova Rinascita Patti e i due stuzzicanti match Aluntina-Valle del Mela e San Fratello-Atletico-Messina nelle sabbie mobili della graduatoria. Quattro derby palermitani e due messinesi nelle gare del torneo di prima categoria girone B. La capolista Sinagra attende la Sfarandina mentre la Nasitana ospita la futura. Domenica poi la vicecapolista Bagheria tenta di rimanere avvingata alla cima della classifica ospitando il Villabate. Riposa invece l'Orlandina.